Ragazze, mini video per farvi vedere ciò che mi è arrivato ieri, un arrivo stupendo, carinissimo e quindi volevo mostrarvelo prima di recensirlo. Allora, quello che mi è arrivato è questo, un bracciale della Click. La Click è un'azienda che produce bracciali con le foto, quindi voi potete scegliere tutte le foto e tutte le immagini che volete per inserirle in questo bracciale. Ora ve lo mostro, ve lo apro, infatti questa non ho postato neanche le foto su Facebook proprio perché mi piaceva talmente tanto questa confezione carinissima perché il bracciale arriva in questo tubo carinissimo e questo è il bracciale. Il bracciale, forse sono le foto sotto sopra, sì. Ecco qua, allora io ho inserito, voi potete andare allora sul sito e troverete l'immagine di un bracciale e voi inserite tante foto, tutte quelle che volete. In pratica io ho messo quelle mie, di mio marito, della mia piccola, con mia sorella, qualcuno di lui da sole, quindi realmente potete scegliere tutto ciò che volete. La Click in questo periodo sta facendo una grande promozione, ovviamente per San Valentino, proprio perché comunque questo bracciale rappresenta anche, cioè può essere comunque un ottimo regalo di San Valentino perché comunque rappresenta l'amore che c'è nel mio caso con la mia famiglia, quindi mio marito e la mia piccolina. Se avete un compagno, un fidanzato, anche immagini solo di voi come coppia, comunque rappresenta un bel regalo di San Valentino. Il bracciale come potete vedere ha tre clip, quindi si chiude perfettamente, voi scegliete le foto che volete, hanno più o meno un costo, se non erro, di 13,90€ più 5€ di spedizione. Quindi diciamo è molto conveniente per una cosa ovviamente personalizzata. In più, la Click mi ha inviato un buono sconto del 20% inserendo un hashtag. Quindi io poi sotto il video inserirò ovviamente il codice per poter soffrire del 20%. Quindi volevo farvelo vedere ancora prima di mostrarlo appunto su Facebook perché è carinissimo, è bellissimo, ma soprattutto arriva in questa confezione stupenda, tubolare, che mi piace proprio tanto. Quindi volevo mostrarvelo in anticipo, ecco, un'anticipazione di una prossima recensione, quindi di un nuovo arrivo di ieri che non ho postato neanche le foto su Facebook. Ragazzi, spero che questo mini video velocissimo vi sia piaciuto, vi ho mostrato quello che ve l'ho fatto vedere col cuore perché mi piaceva proprio tanto questo bracciale, quindi sono rimasta contentissima. Ringrazio l'azienda che comunque ha avuto fiducia in me e ovviamente poi appresso con comunque nuove recensioni, foto più carine, più belle, anche di outfit abbinate a questo bracciale, quindi ci sarà qualcosa di diverso. Quindi vi mando un bacio, a presto, ciao ragazze!